Il piccolo comune di Cumuli, in provincia di Rieti, raso al suolo del terremoto del 24 agosto, verrà aiutato dai tanti benefattori che raggiungeranno Berceto domenica 18 settembre. Una giornata eccezionale. Dalle 9 del mattino, le quattro porte di Berceto saranno presidiate dai volontari della Croce rossa, della protezione civile, dal gruppo Alpini, dell'Avis, che raccoglieranno le libere offerte per entrare nel centro storico di Berceto, dove dalle 10 del mattino fino a oltre le 24, in diverse zone, ci saranno spettacoli, si potrebbe definire lo squinterno di settembre, nel senso che sono oltre 30 artisti che hanno dato la propria adesione, dimostrando una grandissima generosità e si esibiranno in piazza San Moderanno, in piazza Barbuti, in piazza Micheli, nella zona Gioco Bimbi, che c'è tutta anche un'attività in favore dei bambini con dei professionisti che sapranno farli divertire, raccontando delle fiabe, facendoli giocare e quindi sarà una cosa molto bella per tutte le famiglie che raggiungeranno Berceto domenica 18 settembre. Un programma ricchissimo, nato dall'idea del comico Giampaolo Cantoni, che sarà presente con tanti altri comici suoi amici della regione Emilia Romagna e della provincia di Parma, oltre a tanti complessi musicali, musica anche per giovani, e tanti altri invece attori, cantanti, musicisti che aglietteranno la giornata dalle 10 del mattino alle 24, come dicevo. Ci sarà solo un'ora di silenzio, dalle 11 a mezzogiorno, per la Santa Messa in Duomo di Berceto, dove la fiorista del Poio Raffaella di Bedogna, prima di entrare, offrirà una rosa a ogni fedele, che così potrà partecipare alla raccolta di offerte per il comune di Cumuli. La conferenza episcopale dei Vescovi ha stabilito che domenica 18 settembre, durante tutte le sante messe che verranno celebrate in Italia, saranno raccolte offerte per le zone terremotate. Quindi anche le offerte della Santa Messa nel Maestoso Duomo di Berceto, quest'anno Porta Santa per l'Anno della Misericordia, verranno poi date alle zone terremotate. Quindi è una giornata eccezionale quella che si svolgerà a Berceto il 18 settembre. I volontari, la generosità, le persone che si impegnano nei confronti degli altri, non hanno paura di nessuno, neanche delle avversità. Eventualmente, se fosse brutto tempo, tutto è rimandato a domenica 25 settembre. Ma questa giornata di generosità, a livello provinciale, che si svolgerà nel centro storico di Berceto, contribuirà sicuramente ad aiutare le popolazioni di Cumuli, un piccolo comune che se ne parla poco, sia a livello di giornali che a livello di televisione, perché c'è solo 667 abitanti. Noi vogliamo dare il nostro contributo perché questo possa essere ricostruito. C'è un programma ricchissimo, con tantissimi artisti, ma veramente tanti, che debbo ringraziare tutti per la loro generosità, come debbo ringraziare Cantoni, come debbo ringraziare Loredana Lanzi per la collaborazione fortissima che stanno dando, ovviamente insieme a tutti i volontari e alla superfamiglia e a coloro che faranno anche le iniziative scientifiche come Valentino Straser. Domenica, lo ribadisco, a Berceto ce n'è per tutti i gusti e l'altra cosa importante è che tutti gli esercizi commerciali e ristoranti devolveranno il 10% del loro incasso di quella domenica per questa manifestazione a carattere benefico per le zone terremotate.